Innanzitutto questo pomeriggio è un appuntamento importante perché dialogare su temi come quelli di cui oggi dobbiamo assolutamente affrontare, che riguardano i costi dell'energia elettrica che sono molto alti, farlo con una serie di figure che in Trentino hanno un ruolo importante, ritengo molto positivo perché oggi è necessario garantire anche investimenti strutturali, è importante sicuramente garantire anche un risparmio, ma poi dobbiamo pensare anche a produrre energie da fonte rinnovabili. Il Trentino, come dico spesso, non parte dall'anno zero, molti investimenti sono stati fatti, delle opportunità ci sono anche oggi, tant'è che come giunta provinciale abbiamo impegnato delle risorse importanti per garantire la realizzazione di impianti fotovoltaici, ma anche impianti a biomassa, impianti a biogas. Sono tutte iniziative che vanno nella direzione giusta e che noi avevamo previsto con l'approvazione del piano energetico ambientale 21-30. Abbiamo detto che non siamo all'anno zero, a che punto siamo? Possiamo entrare maggiormente nel merito? Sì, abbiamo lavorato bene, teniamo presente che in Trentino per quanto riguarda la produzione di energie rinnovabili attraverso l'idroelettrico abbiamo delle produzioni talmente importanti che noi oggi produciamo di più di quelli che sono i consumi trentini, però come ben sappiamo questa energia poi viene messa in rete. Sono stati realizzati molti impianti fotovoltaici sia ad uso familiare in passato ma anche per le imprese utilizzando i vari conti energia che ci sono stati dal 2007 fino al 2012 e questo ha portato sicuramente a dei risultati positivi. Oggi noi vogliamo però perseguirli utilizzando e sfruttando anche quelle che sono delle agevolazioni, quelli che sono degli incentivi a livello statale con le detrazioni fiscali ma anche attraverso risorse del nostro bilancio provinciale. Noi ci crediamo ma sono certo che il momento come questo dove le difficoltà sono grandissime tutti sapranno valutarle positivamente queste iniziative. Questa è la produzione energetica in Trentino, qualcuno parla di riservare dell'energia alla provincia, di avere prezzi più bassi, è un libro dei sogni o qualcosa si può fare? No, è il motivo per il quale recentemente abbiamo approvato come giunta questo disegno di legge che a breve arriverà e sarà discusso Io mi auguro anche approvato in consiglio provinciale per quanto riguarda il termine delle concessioni che sono in scadenza nel 2024 principalmente di Dolomiti Energia e della Primiero Energia. Noi vorremmo che il nuovo governo potesse valutare positivamente la sospensione di queste concessioni, quantomeno minimo fino al 2029 visto che sono legate alle scadenze delle concessioni di Enel, ma anche perché il momento è drammatico e se questo succederà attraverso Dolomiti Energia con la quale si sta interloquendo loro si impegneranno attraverso un piano industriale di favorire e di garantire delle risorse con delle ulteriori ricadute per i territori non dimentichiamoci che attraverso questa iniziativa già adesso possiamo disporre di canoni, di cifre di canoni importanti circa 100 milioni di euro che vengono riservate poi a comuni, BIM e comunità oltre che a una quantità di energia gratuita che attraverso quindi la provincia viene utilizzata per ospedali, viene utilizzata per depuratori, per gallerie e quant'altro quindi dei risultati già li abbiamo avuti, ci potrebbero essere risultati maggiori di fronte a queste grandi difficoltà che abbiamo in questo momento